Buongiorno bambini, vogliamo prepararci al carnevale facendo delle maschere. Useremo solo le nostre mani. Pieghiamo un foglio oppure un cartoncino colorato. Mettete le vostre mani sul foglio, seguite le vostre dita e poi ritagliate la maschera come volete. Si possono fare tante maschere diverse. Potete mettere una cannuccia o un bastoncino per sostenerle. Decorate a piacere. Mettete le vostre mani sul foglio. Mettete le vostre mani sul foglio. Per ultimo, chi non ha in casa la mascherina chirurgica? Anche con quella facciamo una maschera. Utilizziamo un tappo, facciamo due buchi e coloriamo. Sarà sicuramente divertente. Aspettiamo le vostre foto e buon carnevale a tutti!